signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae come potete facilmente capire questa non è una delle puntate regolari ma se avete seguito la questione della olg 1.1 proposta dall'asbro probabilmente questo video ve lo state aspettando francamente io stavo aspettando una comunicazione definitiva su quale sarà la nuova olg perché interessa in realtà tutto l'ambiente del gioco di ruolo sia io che sono un master trad ma anche lo sr e anche i più giovani e le nuove forme di neo trad l'asbro però aveva annullato le sue comunicazioni ufficiali quindi io ero andato avanti con la mia vita e ha continuato a lavorare sui miei video regolari e messo in programma che quando finalmente ci sarebbe stato qualcosa di concreto su cui discutere mi sarei organizzato per fare un video in proposito magari chiamando anche qualcuno più esperto di me su queste cose più addentro a queste cose nel settore perché io sono un master qua bisogna sentire qualcuno che fa design che comunque lavora nell'ambiente del gioco di ruolo poi ieri sera quando sono tornato a casa per me adesso è sabato mattina mi ritrovo in realtà grazie a giorgio sul gruppo telegrani master che è la comunicazione che asbro ha fatto per quanto riguarda il mancato annuncio della nuova olg e francamente più la leggevo più mi sembrava ovvio che bisognava fare un commento anche solo per principio quindi questa settimana facciamo questo video speciale la programmazione dei video regolari riparte alla prossima settimana non vi preoccupate semplicemente slitteranno tutti di una settimana non è un grande problema e ammettendo che rio riesca a girare montare caricare il video entro domani mattina adesso per voi che domenica mattina c'è questo video di commento sulla risposta della asbro trovate il link per andare a vedere l'originale direttamente nella descrizione del video quindi andiamo a vedere cosa hanno detto quando inizialmente abbiamo pensato di rivedere lg lo abbiamo fatto con tre obiettivi in mente il primo è che volevamo la possibilità di impedire l'uso dei contenuti dnd in per essere inclusi in prodotti discriminatori o carichi di odio ora al di là che un prodotto estremamente discriminatorio carico di odio non è bloccato alla ditta è bloccato dalla legge bastava inserire una riga per dire ci se il prodotto non è ci avvaliamo della capacità di ricarica tra l'altro se avete visto l'equivalente olg della paizo contiene proprio quella riga in cui loro rifiutano di avallare qualunque prodotto e sia discriminatorio non serviva a riscrivere da capo secondo volevamo indicare a ma è contro ai tentativi di usare dnd nel web 3.0 con giochi in block chain ntf e a rendere chiaro che l'olg contenuti olg si limitavano ai contenuti da tavolo come campagne modo e supplementi anche in questo caso una riga questa olg si riferisce solo ai contenuti cartacei o contenuti cartacei più pdf o bastava semplicemente dire non facciamo nulla con web 3.0 non credo comunque che l'asbro abbia quelli che fanno gli ntf come rivali quelli che fanno gli ntf terzo volevamo assicurare che l'olg sia per i creatori di contenuti credo che qui stia parlando di gente come me chi crea le cose a casa gli aspiranti designer i nostri giocatori and e comuni not manager e la comunità non le grandi corporazioni per usarla per i loro fini commerciali o promozionali per chi ha letto il testo è stato licchiato questo lo saprà già nel caso nella nuova olg una delle cose che veniva dette che qualunque cosa venisse creata sotto l'ombrello dell'olg sarebbe stata automaticamente disponibile per asbro per poter essere utilizzata quindi facciamo un esempio voi siete un master col suo tavolo da gioco normale state scrivendo la vostra ambientazione la vostra quest quelle cose di cui parliamo nel canale molto spesso ecco scrivete un mostro particolare poi decidete di metterlo su admg il renderlo pubblico in qualche modo perché boh siete contenti di aver scritto quel mostro e quindi lo volete condividere con la community magari un altro master da un'altra parte dirà ah ma guarda potresti cambiare questo o che bel mostro che hai fatto la maggior parte di noi avuto esperienza del genere ecco con la nuova olg tecnicamente asbro potrebbe decidere di prendere quel mostro e metterlo in un suo manuale dei mostri perché voi l'avete creato sotto all'olg questo sicuramente aiuterà la community e soprattutto gli aspiranti game designer chiunque viene aiutato dal fatto che la propria roba viene presa da tra l'altro le major corporation siete voi stiamo parlando di asbro non c'è qualcuno di più grosso di asbro abbiamo diviso questi obiettivi in due semplici principi uno il nostro lavoro è essere buoni pastori del gioco e due la olg esiste per il beneficio dei fan nothing about those principles nessuno niente riguardo a questi principi è stato scosso per un secondo allora considerando che vi siete tirati dietro le ire dell'intera comunità del gioco di ruolo good steward of the game no semplicemente no se fosse stato fatto a beneficio dei fan magari bastava chiederlo ai fan e i fan hanno detto molto chiaramente che non ritengono questo al loro beneficio quindi avete fallito in entrambi i vostri principi so che sembra una cosa e sì ma perché andare a picchiare perché questa gente non sono un gruppo i ragazzini che hanno scritto il loro gioco di ruolo mentre giocavano adesso cercano di pubblicarlo questi sono professionisti pagati che lavorano ai massimi livelli del settore semplicemente no non non è accettabile questa gente dovrebbe saper fare il proprio lavoro e questo è il perché la nostra prima stesura della nuova lg includeva le provine le regole che includeva quel linguaggio di bossa era pensato per content creator e publisher in modo che il loro feedback venisse considerato prima che la cosa venisse finalizzata quella lg era già stata spedita e tra l'altro era adattata quindi no in più il linguaggio permetteva di indicare discriminatori e tol conduct di nuovo non funziona così la legge e chiarificare quale tipo di prodotti la lg copriva la nostra bozza includeva linguaggio legato alle royalties pensato per applicarsi alle grandi corporazioni che cercavano di usare contenuti lg non era mai in posto intento di impattare il vasto la vasta maggioranza della community quindi fondamentalmente state dicendo che sì questa era una cosa doveva restare interna gli specialisti del settore e speravate che i vostri clienti non la leggessero sì qua facciamo una cosa perché comunità del gioco di ruolo i fan del gioco di ruolo tutto quello che volete ma nella pratica noi dell'asbro siamo i clienti questa è la dinamica che dovete avere in testa poi voi siete grandi amiconi col grosso gruppo ma non sono amici nostri tecnicamente questa gente dovrebbe lavorare per noi così tenetelo a mente comunque è chiaro dalla reazione che noi abbiamo tirato un 1 ecco questa è una battuta spiccia ma questo francamente fa veramente saltare i nervi almeno a me ah sì abbiamo tirato un 1 perché siamo proprio come voi no non siete come noi voi siete un gruppo di dirigenti che lavora al massimo livello del settore e sta cosa come ho detto non è accettabile è diventato chiaro che non è più possibile ottenere a pieno tutti e tre gli obiettivi ma se stendo restando fedeli ai nostri principi per cui questo è quello che faremo no non restate fedeli ai vostri principi voi siete una multinazionale che è de fatto monopolista del settore sono terribili i vostri principi la prossima olg conterrà le regole che ci permettono di proteggere e coltivare l'ambiente inclusivo che stiamo cercando di costruire l'ambiente inclusivo al massimo esiste a livello di tavolo l'unica inclusività che hai con i rapporti di una ditta e sei soldi per pagare il suo materiale puoi essere chi vuoi e pensarla come vuoi finché paghi ti vendono la roba e sarà specificato che copre soltanto i contenuti per il gioco in ruolo da tavolo questo significa che altre espressioni come educazione e carità live cosplay uso di vtt qui rimarranno esclusi non verranno influenzati dall'olg i contenuti già rilasciati sotto lo 1.0 rimarranno a pensi anche perché per un altro principio legale che esiste praticamente in tutto il mondo i cambiamenti i contratti non possono essere retroattivi se nel momento in cui qualcosa è stato pubblicato era contrattualmente corretto non puoi cambiare il contratto e chiedere soldi dopo per ovvi motivi non è qualcosa che voi state facendo per venire incontro al pubblico è qualcosa che voi state facendo perché la legge ve lo impone quello che non conterà sarà qualsiasi tipo di struttura per le royalties e non incollerà neanche licenze a posteriori per che alcune persone avevano paura fosse un modo per rubare il vostro lavoro questo non ci è mai passato per la mente o stanno spudoratamente mentendo che quello che penso io ma nel caso sia vero che non gli è mai passato per la mente non siete bravi a fare il vostro lavoro decidete voi quale delle due è peggio sotto qualunque nuova lg tu resterai proprietario dei contenuti che hai creato non noi sì infatti se andate a leggere non parlava mai che la proprietà intellettuale veniva trasferita alla asbro diceva che la asbro poteva utilizzare i contenuti come lei meglio credeva che un po' come dire che io adesso vengo a casa vostra e prendo le chiavi della vostra auto e vado a farmi un giro io non ho mai detto che adesso quell'auto è mia anzi se la schianto contro un palo poi l'assicurazione viene a cercare voi però io la sto usando qualunque linguaggio metteremo giù sarà cristallino e inequivocabile a questo punto il linguaggio usato nella licenza era inteso per proteggere noi e i nostri partner dai produttori che incorrettamente hanno accusato del fatto di avergli rubato il lavoro solamente per via di similitudini incidentali alla asbro non hanno un ufficio e può fare ricerca su queste cose prima può anche darsi ma nel caso anche così non lo risolvi con un contratto aperto lo risolvi in tribunale se c'è un contestazione per quanto riguarda la proprietà intellettuale intanto e continueremo a investire nel gioco che noi amiamo e muoverci in avanti con partnership per film televisione giochi digitali quel rischio è semplicemente troppo grande da ignorare la nuova olg conterrà regolamenti per venire incontro a questo rischio ma noi lo faremo senza fare senza una licenza e ci supporta e senza suggerire che noi abbiamo il diritto di rubare i vostri contenuti e vostre idee la vostra immaginazione è quello che mette che rende questo gioco speciale e quella appartiene a voi si stessa cosa di prima dato che quello che rende questo gioco speciale tu vuoi incoraggiare la community tutto quello che produce la community te lo puoi usare senza pagarli in più se la gente però usa le cose tue deve pagare che mi sembra il modo migliore per gestire una community comincerò a gestire anch'io così la community del master cae ogni volta che voi dite master cae mi dovete avere le royalties a e adesso tutte le queste che voi avete scritto lo scritte io un paio di considerazioni finali primo non saremo in grado di rilasciare oggi la nuova olg perché dobbiamo essere sicuri di farla per bene ma sta arrivando non lo so questa più che altro sembra una minaccia ma non una minaccia la minaccia da cattivo dei cartoni animati comunque nell'ambiente si stanno già muovendo delle cose quindi poi in mente tempo che arriverà non sarà più rilevante ma vedremo secondo stiamo per sentire persone dire che hanno vinto e che noi abbiamo perso perché far sentire la vostra voce ci ha forzato a cambiare i nostri piani quelle persone avranno ragione solamente per metà voi avete vinto e abbiamo vinto anche noi no quelle persone avranno ragione solo per metà perché voi avete perso e nessuno ha vinto perché questa sarà una cosa che avrà poi ripercussioni nel tempo e ci sarà un sacco di gente che non sono le altre multinazionali che che poi stanno parlando della paizo perché gli unici che possono effettivamente metterli in difficoltà sono la paizo quella che produce pathfinder e che sono stati loro praticamente a creare quando hanno fatto uscire la quarta edizione di dnd che era un gioco tecnicamente molto carente che quindi la comunità si è rifiutata di giocare tornando a un regolamento che invece ha strutturato quello da 3.x che stava producendo la paizo quindi se voi aveste fatto bene il vostro lavoro la paizo non esisterebbe neanche inizialmente produceva la rivista dragon non è che sono arrivati alla luna il nostro piano è sempre stato quello di sollecitare un risposto alla community prima di qualsiasi adattamento dell'olg ma non è vero non è vero l'olg è stata liccata e stava venendo distribuita esclusivamente tra le ditte quindi questa è palesemente una menzogna dimostrabile la bozza che avete visto era un tentativo di fare solamente quello allora perché non è stata pubblicata pubblicamente come questa cosa capiamo in non averlo fatto questa volta e siamo spiacenti per questo vi siete incidentalmente dimenticati di rendere pubblica la poll pubblica che volevate fare a chi non è mai capitato tabaccaio sotto casa mia è fallito perché si è dimenticato per tre mesi di aprire la serranda la gente pensava fosse chiuso nostro obiettivo era di ottenere esattamente il tipo di feedback su che cosa avrebbe funzionato e che cosa no che alla fine abbiamo avuto da voi il vostro consiglio d'amministrazione prendete un bambino di otto anni normale sapete quelli che sconfiggono la multinazionale malvagia nello speciale di natale ecco prendete meccoli colking lo sedete lì e prima di fare qualcosa del genere chiedete al vostro bambino normale di otto anni se il piano funzionerà qualunque cambiamento così grosso sarebbe potrebbe essere fatto bene solo se saremo disposti a accettare il feedback indipendentemente da come stato portato e così noi faremo grazie a voi per tenerci abbastanza da farci sapere cosa funziona che cosa no di cosa avete bisogno e cosa vi spaventa ok allora a me spaventa il fatto che voi abbiate i diritti sull'olg questo mi terrorizza perché evidentemente non siete in grado di capire che questo va al di là del è qualcosa che a voi porta soldi c'è gente che effettivamente appassionata di questo e al di là di tutto il gioco di ruolo è una forma di espressione artistica l'ho detto un sacco rivolte quindi sì sono terrorizzato che sia nelle mani di una multinazionale soprattutto di una multinazionale che potrebbe davvero essere il cattivo della puntata speciale di natale infine noi apprezziamo la possibilità di fare questo in maniera corretta noi abbiamo noi amiamo i devoti giocatori di dnd e i creatori che li portano in così tante incredibili avventure we don't let you down non vi lasceremo non è vero non è vero perché se fosse vero sarebbero state le prime persone a cui avresti parlato comunque questo era il comunicato che io mi sono beccato ieri sera io sto dando per scontato che tutti voi sappiate già di che cosa si stia parlando nel caso sul gruppo di telegram è in realtà anche sul server di discord dove abbiamo avuto un intervento dei ragazzi di golario in italia che diciamo in questo momento voglio ringraziare poi verremo di fare qualcosa per bene comunque trovate le informazioni ma in realtà le state trovando ovunque magari in descrizione vi linko anche qualche articolo per adesso diciamo che questi sono stati i miei commenti a riguardo perché qualcuno che gli ha chiesti poi vedrò quando ci saranno delle notizie ufficiali vedrò di creare qualcosa è un attimo più strutturato magari ci vorrà tempo non è qualcosa che farò in tempo reale questa è una cosa che volevo fare in tempo reale almeno provarci se non sapete proprio cos'è la ogl intanto benvenuti sul nostro pianeta questa si chiama la terra la gente non è affatto amichevole e nel caso vi lascio qua su un video di anni fa in cui parlavo appunto della nascita della terza edizione di dungeons and dragon e come diventò uno dei pietre miliari culturali del gioco di ruolo proprio grazie al fatto che la olg permetteva di creare espandere contenuti quindi andatevelo a recuperare se dovete per il resto diciamo che questo video finisce qui normalmente io vi dico di condividerlo perché fa crescere il canale nel caso più che altro condividete questo video per far vedere la risposta ma più che il mio video condividete l'articolo perché credo che la gente possa valutare da solo francamente quello che fa veramente arrabbiare che è palese che stiano non solo mentendo ma cercando di lisciare il pubblico e lo stanno facendo talmente male che l'effetto che ottengono non è quello di far calmare la gente ma di quello di farla arrabbiare ancora di più ovviamente mi aspetto qui sotto di vedere le vostre risposte in materia e allora io non dirò qual è la soluzione secondo me se volete provarci voi ma sembra che la paizo stia lavorando in materia anche di quello parleremo poi magari meglio in futuro ho parlato fin troppo adesso io devo montarlo e caricarlo a una velocità incredibile quindi io sono il master car e ci vediamo nel prossimo video